Dottoressa, gli uomini sono tutti uguali. Hai provato con le donne? Le donne non mi piacciono. Wow! Neanche alle donne piacciono le donne. Cosa? Niente, sono 300 euro. Dottoressa, perché appena qualcuno mi dà la minima attenzione mi innamoro? Tu hai un problema! Sono qui. La verità è che riusciamo a goderci solo le cose di cui non ci importa davvero. Sì? Roviniamo sempre tutto quando ci teniamo. Ti sta dicendo che devo smetterla di affezionarmi? Sì. Come può dire questo? Tesoro, per illuderti c'è già la tua migliore amica. Sì. Sono 300 euro. Dottoressa, Dio dà le battaglie più difficili ai suoi guerrieri migliori. È vero? Sei riuscita ad andare in ufficio stamattina? Sì. Sono fiera di te. Domani però torno in smart working. Certo. Sono 300 euro. Orco della palude. Dottoressa, essere donna è la cosa peggiore del mondo. Ci sono cose peggiori. Tipo essere donna e lesbica. Tipo essere donna, lesbica e nera. Sì, ma anche in quel caso ci sarebbe qualcosa di peggio. Tipo? Tipo trovarsi nelle torri gemelle l'11 settembre 2001? Sono 300 euro. Anora. Tipo trovarsi nella torri gemelle.